Avvocato Cammarota, lei è tra quelli che ha espresso esplicitamente perplessità rispetto a questa scelta di lasciare aperta solo la Chiesa di Sant'Agostino all'interno del Centro Storico, nella comunità del Centro Storico in occasione di sepulche? Massimo rispetto per chi prende queste decisioni, ci mancherebbe altro. Però la Chiesa, il Cristo è anche popolo, tradizione e popolo e tradizione vuole che nel giorno della nascita e della morte di Cristo il popolo possa stare vicino al suo Cristo. Questa tradizione è stata quest'anno limitata dalla chiusura di tante troppe Chiese e in primis del Duomo il che ha lasciato sconcertati tanti, questo è l'elemento vero. Forse andava comunicato meglio? Non è un problema di comunicazione, è un problema che le Chiese per definizione sono aperte ai fedeli. Il giorno dei sepolcri, noi li chiamiamo così, si dice in altro modo evidentemente, però se la gente che prega e che si stringe attorno al Cristo li chiama i sepolcri e questa è la stessa tradizione che poi porta le migliaia di persone in processione dietro le statue, dietro i santi e questa tradizione fa grande la Chiesa e va rispettata. Grazie.